La SIAE rappresenta 90.000 iscritti e 20.000 giovani che prendono meno di 1.000 euro al mese senza contributi e pagano le tasse fino all'ultimo. E non si capisce perché dobbiamo favorire delle multinazionali che sono assolutamente in grado di pagare il diritto d'autore e si rifiutano. E armati di lobby, io sono stato a Finsburgo e mi hanno parlato i parlamentari gruppi e i nostri i lobby potentissimi che fanno pressione di tutti i tipi, hanno preso minacce, adesso non so se è vero però non ho detto così. La musica deve essere pagata perché non si può lavorare coloro che lavorano per la cultura, non si può non approvare questo fatto di non pagare chi lavora per la cultura, non c'è nessuna giustificazione specialmente da chi guadagna miliardi e non abbiamo capito perché si devono favorire delle società che guadagnano miliardi americane e penalizzare coloro che lavorano per la cultura e che fanno fatica magari a tirare avanti la maggior parte della gente. Poi noi faremo adesso un incontro con tutti i presidenti, i direttori generali, i presidenti dei partiti per chiedere perché, una domanda, perché non si deve pagare? Se parliamo di libertà stiamo usando una parola sacra a sproposito perché non è che devono, la libertà di chi? La libertà di chi? Allora se si parla in questo senso della libertà io vado al ristorante, mangio e poi in nome della libertà non pago, ha senso, mi arrestano e allora qui come mai no? Questo voglio capire, mi batterò con tutte le forze per poi andare avanti a questo discorso insieme a tutti coloro che ci credono chiaramente.